Quello che volevamo è stata una bella partita, già prima avevamo parlato che l'energia mentalmente era già diversa delle ultime due settimane che abbiamo fatto l'allenamento, quindi abbiamo lavorato bene. L'energia era diversa, quindi dovevamo solo mettere in partita e far vedere che ci siamo anche noi. Però adesso non dobbiamo fermarsi qua, dobbiamo ripartire da qua e continuare a lavorare. Secondo me si vede anche un miglioramento perché si è vista una squadra che non era solo attaccare e attaccare, che dobbiamo anche difendere in gruppo e secondo me l'abbiamo fatto. È un orgoglio per me indossare la fascia già da 5 anni, non dico che lavoro per questo, però davvero per diventare un giocatore importante qua e dare il mio massimo sempre per la squadra. Grazie. 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 Grazie.